Devo fare un'ultima battuta con Giannino e Centinaio, lo dico per i nuovi ospiti che saluto che sono appena arrivati, rispetto all'argomento di prima, parlavamo di moda, moda e abbigliamento, Giannino mi diceva Centinaio, anzi non lo diceva ma lo dico io, chissà che penserà Giannino del mio fazzoletto verde, quello d'ordinanza per tutti i parlamentari leghisti, anche non parlamentari, ti piace? Assolutamente favorevole perché la vere cose identitarie, questo per esempio io lo porto da anni e è un amico che non c'è più, le cose identitarie rappresentano nella scelta variabile di tinte, toni e tessuti il marchio dell'individualità di una scelta, questa è una cosa che in Italia idem, per sembrare tutti uguali, il gessato uguale classe dirigente, anche se si tratta di un medio, questo è il sintomo di mancanza di sicurezza, mentre invece l'identità dichiarata nell'ambito di poi uno come diavolo si veste, è una maggior sicurezza su se stessi, questa è la mia opinione. Benissimo, allora promosso a piedi voti il fazzoletto verde.